Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. L'uscita di Avatar La Via dell'Acqua è imminente. Siete curiosi di scoprire come è andata la carriera degli attori e delle attrici, che rivedremo in questo sequel, come è cambiata da quel film uscito nel 2009 fino ad ora. In questo video andiamo a scoprirlo assieme. Prima di iniziare lasciate mi piace per supportarmi, se volete altri video di questo tipo. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, condividete, attivate la campanella delle notifiche e seguitemi sulle mie pagine social Facebook e Instagram. Giovanni Ribisi, l'interprete di Park Selfridge, ovvero l'uomo che a tutti i costi cercava di estrarre da Pandora il preziosissimo Unobtanium, lavora in film action come Contrabbanda e Gangster Squad, partecipa a lavori cinematografici di Seth MacFarlane come Ted, Ted 2 e Un milione di modi per morire nel West. Joel David Moore, che ha vestito i panni di Norm Spellman, assistente della dottoressa Grace, ha avuto ruoli minori in film come Gone o Le Belve e un ruolo più principale in Grass Roots. Stephen Lang, l'interprete del colonnello Quorich, il villain del film, ha partecipato a diversi film action come Conan the Barbarian o Braven il Coraggioso e si contraddistingue per aver interpretato un ex veterano di guerra cieco nei due film di Made in the Dark. Sigourney Weaver, che ha interpretato la dottoressa Grace Augustine che in questo sequel invece darà le movenze a un navi, ha partecipato a film poco memorabili come Paul e Abduction Riprenditi la tua vita, ha anche fatto parte di film come Human Droidi nel Born Camp o l'interessante sette minuti dopo la mezzanotte, torna sotto la regia di Ridley Scott nel Colossal Exodus dei Re e appare in Ghostbusters del 2016 e in Ghostbusters Legacy. Zo Saldana, che ha vestito i panni di Nei Tiri, riprende il suo ruolo di ignota nei due sequel di Star Trek del 2009, partecipa a diversi action come The Losers e Colombiana ed entra nel mondo Marvel nei panni dell'abile guerriera figlia di Thanos, Gamora. Sam Worthington, l'interprete del protagonista Jake Sully, ha partecipato a film come Scontro tra Titani, il sequel La Furia dei Titani, alternanza tra thriller e drammatici nella sua carriera come 40 Karati e Cake, ha avuto un ruolo anche nel drammatico di guerra di Mel Gibson alla battaglia di Oxon Ridge, in un film sul surf chiamato Drift Cavalcalonda ed è possibile anche vederlo in una nuova forma umanoide nel film arrivato direttamente su Netflix, The Titan. In conclusione, è possibile notare che Avatar non abbia influito più di tanto al rilancio delle carriere degli attori e delle attrici presenti in questa pellicola. In Titanic, James Cameron aveva lanciato in maniera prepotente Leonardo DiCaprio e Kate Weaslet nel panorama cinematografico hollywoodiano. Detto ciò, aspetto le vostre considerazioni giù nei commenti e vi rimando nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!